in acqua la serie sei presentiamo la cinque Tommaso De Giorgio in uno Alessandro Pavel Panziera la due Massimiliano Molinari in tre Andrea Roccasecca a quattro Riccardo Centron cinque Federico Manestrina in sei Lorenzo Covri alla sete Alessandro Casagranda all'otto Sebastiano D'Alfredo trentadue novantanove fa sua la serie sei novantanove fa sua la serie sei